33 anni di campo di lavoro missionario in diocesi a Rimini, anche quest'anno dal 13 al 14 aprile si torna a raccogliere ferro carta stracci per consentire a 6 missioni tra le più povere del mondo di avere finanziamenti e contributi per cercare di mettere da parte dei soldi che serviranno naturalmente per la crescita di tante popolazioni. Anche quest'anno abbiamo come finalità 7 progetti particolarmente interessanti che saranno anche illustrati nella serata di preparazione al campo lavoro di quest'anno che è venerdì 15 marzo, nella serata ci saranno dei missionari che testimonieranno la realizzazione dei progetti finanziati negli anni scorsi e 3 missionari che sono quelli che verranno finanziati per questo campo lavoro. Il campo di lavoro è organizzato su 4 campi sparsi per la diocesi, uno a Riccione, uno a Rimini, uno a Bellaria e uno a Verucchio. Si siete posti degli obiettivi anche sulla base dei precedenti campi di lavoro quest'anno, cosa volete raggiungere, quali traguardo volete raggiungere? Quello che interessa soprattutto al campo lavoro non è tanto il risultato economico, quanto che si possa diffondere una mentalità che possa dare un cambio a questa nostra vita, chiamiamola così, soprattutto sulla sostenibilità, sul rispetto dell'ambiente, sul essere essenziali, sul non spreco, sull'utilizzo delle risorse che possiamo avere e che possiamo riciclare. Per cui pensiamo che siccome nelle nostre case ci sia parecchia roba che può avere ancora un futuro, è un peccato doverla disperdere ed è invece importante che qualcuno la possa raccogliere per poi dare nuova vita nei mercatini che sono anche allestiti all'interno dei quattro campi, ma per la roba che non ha invece futuro vengono poi riciclati e il compenso che viene raccolto possa essere investito in progetti di sviluppo nel terzo mondo.